ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro come si calcola la dimensione di un livello elettrico da due e mezzo 2,5 mm quadrati diviso pigraico 3,14 uguale a 0,79 la radice quadrata di 0,79 e 0,89 0,89 per 2 uguale 1,7 mm aria uguale a raggio per raggio per 3,14 aria uguale a raggio seconda per 3,14 aria uguale 1 al quadrato per 3,14 uguale 1 per 3,14 uguale 3,14 mm